I TV 4K LG OLED EVO della serie C2 sono perfetti per passare a una nuova esperienza gaming grazie alla nuova luminosissima tecnologia OLED EVO con pixel autoilluminanti capace di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, donare profondità alle immagini e colori incredibilmente vivaci e realistici. Il merito è del nuovo processore video Alfa 9 di quinta generazione e della tecnologia Brightness Booster con cui LG è riuscita a ottenere una luminosità di picco maggiore sul pannello. Per la precisione parliamo di una luminosità fino al 20% maggiore rispetto ai modelli non OLED EVO con una copertura del 100% del volume colore. Inoltre la maggiore potenza di calcolo del nuovo processore ha permesso di analizzare e ottimizzare i contenuti fin dalla definizione standard esaltando gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo e donando una profondità naturale alle immagini. Sul nuovo LG OLED EVO C2 le tue sessioni di gioco risulteranno più nitide, fluide e veloci in ogni azione senza ritardi né scatti o tearing. Il tempo di risposta è fondamentale per i videogiochi e l'OLED EVO C2 è velocissimo, solo un millisecondo con un input lag bassissimo. Ma il fiore all'occhiello sono le quattro porte HDMI 2.148 Gbps che supportano le principali tecnologie di refresh variabile come Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium e VAR che ti assicurano l'eliminazione dei fastidiosi effetti tearing dallo schermo e puoi perfino giocare con il Dolby Vision in 4K fino a 120 fps. I nuovi OLED EVO C2 di LG sono dotati del nuovo sistema operativo WebOS 22 con tante funzionalità aggiornate proprio per il gaming. Con Game Optimizer puoi tenere sotto controllo l'esperienza di gioco e ottimizzarla in base al gioco. Se stai giocando a un gioco di calcio puoi impostare ad esempio il genere Sport che mette meglio in evidenza i giocatori in campo. Oppure se stai giocando a uno sparatutto puoi usare la modalità FPS che ti fa scorgere meglio i nemici che si nascondono nell'ombra. In più, se non hai una console o un PC puoi accedere direttamente alle piattaforme di streaming Google Stadia e GeForce Now per giocare semplicemente con una connessione internet e un controller collegato via Bluetooth al TV. Tra le funzionalità aggiornate del nuovo processore spicca anche iE Sound Pro che permette di riprodurre audio surround in modalità virtuale a 7.1.2 canali sfruttando i diffusori integrati del TV. In questo modo ti sentirai completamente circondato dagli effetti sonori e sarai il vero protagonista dell'azione. Tra l'altro la serie C2 è pronta a soddisfare tutte le esigenze in termini di dimensioni sia che cerchi uno schermo da gaming o grande TV per l'on cinema. Infatti ai tagli da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici si aggiunge un piccolo 42 pollici perfetto come TV da collegare a una console o a un PC per la tua postazione sulla scrivania. Passa a una nuova dimensione del gioco con i nuovi OLED EVO LG della serie C2, gameplay scattanti e coinvolgenti e immagini realistiche luminose come non le hai mai viste prima.